Ecco, vediamo questa nostra storia. Rete, rete, rete! Ha segnato la Virtus Castelfrenzano. Chi la fa? Non ho visto, dalla regia. Chi la fa? Chi sa di qua? La regia. Ah? Andrea Nassel. Ah, appunto. Eh, sì, perché... Ti vedo qua. 3 a 3, tutto? 3 a 3, pareggio. Ha realizzato il pareggio il numero 9, Andrea Nassutti. Un bel gol. Adesso palla a centro. Ripresa del gioco da parte del Casalbordino, che è il gioco con la divisa rosa-nero, calzettoni rossi. Mentre noi con la classe della divisa giallorossa, i stessi colori sociali del Casalbordino. 3 pari. Andre! Bravo!